A Milano Ciao si parla, a Croiz, a Milano Senti, hai fatto un disco, un disco, cioè insomma Dov'è tenuto l'origine di canzoni? Non so, non so, non so, non so Dove hai lasciato la tua musica? Allora, io in qualche modo penso di aver fatto sempre Quasi sempre di scrivo un po' auto biografici Forse un po' escluso il sensuale Come diceva, avevo carosello che era niente che non va Forse quello è stato un po' più... Mi sono recitato un po' di storie utili Però credo, quasi tutte le cose che scrivo E' un po' da esperienze mie personali Molto piccole, tra l'altro Niente di... di chissà quanto sono Mi racconto le cose piccole che mi succedono E' una storia digitale Che aveva un successo enorme in queste storie lì E' un'ottimo concerto a Milano Eh, sei da cosa? Che non la spacchiamo? Grande, grande Silvano Ti ringrazio e... Grazie mille Ciao Ciao